Vino Rosso, noi vi lasciamo con un caldo tradizionale effettuare con questi strumenti i nostri appunti, grazie a voi Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie, grazie Un applauso, un applauso grande ai nostri amici santolimari e appulcesi Adesso Ragazzi adesso tutti quanti in piedi Tutti in piedi abbiamo il momento del Vino Nazionale Tutti in piedi, non lo succede, in silenzio Grazie a tutti 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 Grazie a tutti